Vespe truccate, anni sessanta, girano in centro, su M90, sfiorando i 90. Annuncia Giulia come fossi Cesare a buonamici al TG5. Italo-Persiana, alla mano e a Riete. Un po' perché ho aggiunto a Riete. Giulia, annuncia Tommaso come se nella vita fossi una trapper. Oh, bella frate, raga, oggi abbiamo uno special guest, un nostro fratello della strada, lui viene direttamente da Cini, Cinisello, Balsamo, con noi oggi, un grande applauso, stand up everybody for Tommaso Zorzi, power, flex, Tommaso Zorzi is in the house, yeah, bella frate. Ho capito niente. Come vi siete conosciuti? Su Tinder, no non è vero, ci siamo conosciuti in corso como e la prima cosa che gli ho detto è tu avrai successo. Ti ricordi? Sì, la prima cosa che mi fa no ma perché vieni qua che ti faccio prendere due follower e io, prego. Come siete salvati sui rispettivi cellulari? Giulia Power. Tommaso Zorzi. Vi è mai capitato vi piacesse lo stesso ragazzo? Abbiamo gusti molto differenti. Diciamo l'ultimo a me non piaceva. Dai. La cosa più pazza che avete fatto insieme? Mangiare un minestrone. Ah no, weekend a Londra. No vabbè, ragazzi, mi ha anche lasciato in aeroporto, mi fa amore non ti preoccupare ti mando la macchina, lei era tipo mattina, lui aveva fatto serata, il signorino, chiamavo, chiamavo, lui dormiva, poi mi sembra dopo due ore, amore non ti preoccupare ti mando Uber, e io mi mandi Uber. Chi dà i consigli migliori tra voi due? Nessuno dei due. Nessuno dei due. Chi è il più ego riferito? Beh, salemi con che coraggio, cioè veramente con che barbaro coraggio, tutte e due. E io almeno un po' finta la faccia di non esserlo. Qual è il personaggio famoso più assurdo di cui avete il numero sul cellulare? Cioè il numero che dici perché ce l'hai in rubrica giù cascadella? Anzi scusami, Eliana Michelazzo. Non so, la Malgi, la zia Malgi. Vogliamo chiamarli? Malgi! Chi è? Sono la Giulia. Sono la Giulia Salemi, amore, ma non hai mio amore? Amore, mio dolce, come stai? Bene? Bene, amore, allora sei qua in viva voce per una cosa per media set play, per la puba e il secchione. Fai un saluto, amore, a tutti quanti. Ah, beh, un saluto, amore effettuoso. Eliana Michelazzo? Ci vogliamo alzare così il livello di share? Pronto? Ciao. Ti sento. Come stai? Ti disturbo? Eh, ma da Giacomo ti filmate un pochino? Sì, sì, non ti preoccupare. A dopo. È da Urtis. Esclusiva shock, la Michelazzo sta rifacendo. Harry e Meghan hanno rinunciato allo status di reali. Fate un appello alla regina per chiederle di farvi prendere il loro posto. Queen, listen to me. We will help you. We will help London. Le sottilissime chance che avevamo ce le siamo bruciate. Avete un annuncio da fare? Ragazzi! Io e Giulia abbiamo un annuncio da farvi perché possiamo dirvi in via assolutamente ufficiale che martedì prima della puntata della Puppa e Secchione e viceversa noi saremo in diretta live streaming su Mediaset Play. Quindi ragazzi, se veramente volete ridere a crepapelle fate la vostra parte a casa. Esatto. Tweetate. Tweetate, instagrammate, facebookate, seguiteci in generale su Mediaset Play. Mi raccomando ragazzi.